Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge al disegno di legge per l'abbattimento delle liste di attesa. Si va incontro ai cittadini, ha detto il Ministro della Salute Orazio Schillaci, annunciando che dal 1 gennaio 2025 sarà abolito il tetto di spesa per il personale sanitario, ricordando che esiste da almeno 20 anni e nessuno l'ha mai abolito fino ad adesso. Già nel 2024 per le regioni che lo vorranno, sarà possibile incrementare il tetto dal 10 al 15%. Le misure per ridurre i tempi di attesa. Da CUP unico a esami nel weekend, il decreto approvato prevede l'istituzione presso l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari della Piattaforma Nazionale delle Liste di Attesa, in coerenza con l'obiettivo potenziamento del portale della trasparenza previsto dal PNRR. Inoltre si istituisce presso il Ministero della Salute l'organismo di verifiche e controllo sull'assistenza sanitaria con il compito di verificare il corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei relativi piano operativi per il recupero. L'organismo, con il supporto dei carabinieri per la tutela della salute, potrà accedere presso vari soggetti sanitari pubblici e privati accreditati per verificare e analizzare le disfunzioni delle agende di prenotazione su segnalazione dei cittadini, degli enti locali o delle associazioni di categoria degli utenti. Le direzioni generale aziendale dovranno garantire l'erogazione delle prestazioni richieste attraverso l'utilizzo dell'attività libero professionale intramuraria o del sistema privato accreditato, anche al di fuori degli accordi contrattuali vigenti sulla base della tariffa nazionale vigente. Inoltre si prevede che le visite diagnostiche specialistiche siano effettuate anche nei giorni di sabato e domenica con orario prolungato.